Come si sta evolvendo nel mondo sanitario riguardo i pazienti con patologie cardiologiche? E soprattutto, quali sono le risposte che il mondo sanitario può dare a queste persone? Buongiorno, si sta assistendo ad un'evoluzione delle caratteristiche dei pazienti che negli anni diventano sempre più anziani e sempre più complessi perché ammalati di molte patologie. Paradossalmente noi abbiamo una riduzione progressiva degli infarti miocardici che ricoveriamo in cardiologia, quindi la risposta non è migliorare l'assistenza all'infarto miocardico che è già buono in molte realtà italiane, ma cercare di capire come rispondere al bisogno del cardiopatico cronico che è ammalato tutto l'anno, non solo quando è ricoverato, che richiede risposte da parte di molteplici figure, diversi specialisti perché è ammalato di molte patologie. Serve un sistema organizzato fuori dall'ospedale che possa prendersi carico tutto l'anno di questi pazienti che hanno bisogni molteplici e non limitarsi solo alla fase acuta. Questa organizzazione è complessa ma le riforme sanitarie in tutta Italia stanno cercando di organizzarla in questo modo. Perfetto, ringrazio il dottor Di Lenarda.